Che cosa vergognosa? Grande fratello, Garibaldi si trova di nuovo nei guai. Nella notte è scoppiato un gran caos. Non era sufficiente la presunta mancanza di empatia mostrata verso Beatrice Luzzi. Ora Garibaldi è coinvolto in un'altra controversia e il pubblico del Grande Fratello chiede nuove misure. Su social media, molti sono stanchi dei comportamenti del concorrente siciliano, che ieri sera ha commesso un altro errore. Parlando con Stefano Miele, ha raccontato di avere molti amici gay, suscitando la risposta immediata di Stefano, non si dice ho molti amici gay come te. Non vengo da te e ti dico che ho molti amici etero o biondi. Tutto questo è ridicolo. Affari tuoi, tempesta su Stefano a corsi durante la puntata, il pubblico se ne è accorto non è necessario specificare. Essere gay non ha caratteristiche diverse da quelle di altri e non c'è bisogno di accomunare. Sei tu che ti stai alterando. E se Anita ti difende dicendo che vieni da un piccolo paese, ti sta chiamando ignorante. Dire che hai anche amici gay sottolinea una differenza, come se un gruppo di persone fosse diverso dagli etero, quando invece siamo tutti persone. Nuove accuse verso Garibaldi al grande fratello per alcune frasi Giuseppe ha cercato di difendersi. L'ho detto per fare un esempio che non c'è nulla di male in quello che dico. Mi dicevi che invece di usare la parola uomo certe volte dovrei dire persona, e così volevo dirti che non ho problemi con nessuno. Ti spiegavo che ho amicizie di tutte le tipologie, anche gay. Ti aggrappi al fatto che non ti devo dire così. Ti stai aggrappando a litigare e non mi piace. Cerchi un appiglio su questo argomento che secondo me ti è stato inculcato da qualcuno tempo fa, non so da chi. Come quando mi hanno associato al maschilismo. Poi è stata la volta di Anita, lui non lo fa con intento negativo. Parliamo di una persona che viene da un piccolo paese e sa trattare la cosa come me. Lui è sempre rimasto nel suo contesto. Non dico che è ignorante. A una persona che vive su un monte con tre pecore e due persone, pretendi che sappia come usare il verbo uomo. So dove vive Giuseppe e come ha vissuto. Se trovi Heidi nel paesino sul monte, pretendi che parli come uno di Londra o Milano. Ma sui social non perdonano. Garibaldi deve andarsene. Ha passato il segno. E ancora, che cosa vergognosa, basta pure grazie.